Una grande passione del popolo italico, il modellismo, che ora viene celebrato nella perla dell'Adriatico con una mostra che ormai è arrivata al suo doppio lustro. Ieri a Grotta Mare, presso il Circolo Velico Le Grotte, è stata infatti presentata la decima edizione della mostra di modellismo navale statico ed altro, organizzata in collaborazione con il Comune, l'Associazione Lido degli Aranci e la Comcommercio. Se il sindaco Merli e il suo vice Pier Gallini hanno sottolineato la longevità dell'iniziativa, che ormai è un pezzo di storia della comunità che coinvolge grandi e piccini, Tullio Luciani di Comcommercio ci ha tenuto a ricordare i risultati raggiunti negli anni. Dieci anni fa quando siamo partiti era un po' una scommessa, mai avremmo potuto immaginare di oggi trovarci qui a festeggiare questo decimo anno che ci vede veramente protagonisti nel mondo del modellismo addirittura nazionale, perché la nostra mostra è stata considerata da autorevoli del settore, esponenti del settore, come tra le prime cinque addirittura in assoluto in Italia, è la prima addirittura nell'Italia centrale, quindi di questo ne siamo orgogliosi. La mostra comincerà il 28 giugno, si terrà nella sala corsa fino al 14 luglio e, cosa molto importante, sarà ad ingresso gratuito. I modelli presentati saranno quasi 400, mentre gli espositori saranno 60, fra di essi anche alcune associazioni con cui la mostra di Grotta a mare è gemellata, come spiega il presidente del Lido degli Aranci, Peppe Camela. Ringraziare un po' tutti i gemellaggi, quello storico con Chiara Valle, poi quest'anno abbiamo per la prima volta il gemellaggio con l'associazione degli amici modellisti di Montelupone e di Fano, quindi una realtà che si sta ramificando sul territorio e per noi è una grande soddisfazione poter essere presenti poi nelle loro mostre in seguito per tutto l'anno. Infine, un piccolo dettaglio, sulle cartoline promozionali è stata stampata una frase molto suggestiva. La mostra, con le riproduzioni delle grandi barche, è infatti l'occasione per lanciare un messaggio al mare e a chi lo naviga. Dieci anni, 120 mesi, 3650 giorni, eccoci finalmente giunti in simbiosi con il cielo e il mare, i suoi mezzi naviganti nel porto, meta del sereno e dell'orgoglio di chi ama Grotta a mare, un gabbiano.